Sono Maria Luisa Panza, 13 mesi fa ho fondato la mia attività Be It, totalmente improntate sulla gastronomia specialmente tipica piemontese. Da questa fantastica giornata, da questo corso, da questo workshop, mi porto a casa informazioni utili che mi permetteranno di essere più determinata sui social network, mi porto a casa più consapevolezza che sul mondo internet non siamo sempre al sicuro, mi porto a casa qualche conoscenza in più di questo fantastico coach che ci ha seguito in questa ora e mezza di attività e sono felice, sono contenta e vi ringrazio molto per l'opportunità.